Eccoci tornati a SOS e a Rizzo TV, buonasera. Ciao Fabio. Eccoci qua, siamo tornati dopo tanto tempo, che c'è? No, se ci rimpone la telecamera, il lavoro fatto bene dalla loro amministrazione Lucarini, ti ricordi che fuori pulite anche tutte le mura con l'avvento dei parcheggi, purtroppo la velocità si sta riprendendo le mura e quindi di conseguenza penso che sia il caso di intervenire per lasciare tagliare un po' e tenere la bellezza. L'unica parte delle mura è rimasta intatta della città. E' vero, vanno tenute da conto. Siccome la notte erano illuminate, adesso non lo so, qualcuno ha visto che è spenta, però effettivamente è bello questa entrare da parte della città di qua, tutto pulito e non coperto dai rovi, come fra un po' succede se nessuno interviene. C'è queste zanzare, quasi a novembre, saranno queste temperature? Pensa che oggi è caldo, domani l'altro sicuramente è freddo, quindi queste sbalze di temperatura fanno sì che io... Me la tosse. Me la tosse. Siamo al parcheggio pietre, è un po' che non ci tornavamo, perché le condizioni qui del manto stradale, diciamo così, cominciano un po' a traballare. Sì, sì, perché logicamente essendo un pavimento permeabile l'acqua qui in questo punto ha trovato da andare via sotto e quindi si porta via anche tutta l'area della sabbia che era intorno e che faceva dal pavimento. Quindi penso che sia il caso di intervenire abbastanza velocemente. se non altro, se non si vuole ripristinare la mattonatura e lasciarla anche così, però di riempire queste tane in modo tale che queste non si muovano, perché altrimenti si muovono poi, si creano buche e così via. Sì, perché qui siamo nella parte che è rimasta gratuita, che ovviamente è più frequentata di quella a pagamento. C'è stato soprattutto da quando è diventata... Non ci sono neanche le colonnette per le macchine elettriche. E che di là invece ci sono a pagamento. Quindi devi pagare il biglietto per entrare, fare il rifornimento e metti un euro in più per la colonnatura. E quindi qui invece è più transitato e quindi ogni volta che le ruote delle macchine passano qui sopra, vedi, si muove tutto. Si muove tutto, quindi sicuramente è il caso di fare al momento una piccola manutenzione e ripristinare in modo tale che non ci sia movimento fra l'uno e l'altro, altrimenti vengono fuori i problemi. D'altronde questo è un pavimento permeabile e deve essere fatto così. Comunque puoi fare anche gli addominali, perché se ti metti così, sai quei sono quegli attrezzi che uscigli e ti butta giù questa... No, non ce l'hai la pancia. No, no, l'ho persa. Pensavo di trovare qui sotto. L'ho persa, l'ho persa, l'amore me l'ha fatto perdere. L'amore. Perché riti di scusa? No, io non rido. L'amore. 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 Quindi insomma... Non hai bisogno della palestra, insomma. No, 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 no. Vediamo le macchine, vedi che... Vado a cantare, quindi di conseguenza trovo un sacco... Vedi come balla? Trovo un sacco d'amore. Che rumore che fa. Vedi come balla? Vedi? Insomma, qui dobbiamo... Perché ora è gestito dall'Atam. Sì. Però la manutenzione sarà sempre dell'Atam? Atam. Sempre Atam. Quindi al caro amico... Bernardo. Bernardo Mennini, che abbiamo già ascoltato. Fresco rivisto... Non l'hai visto? No. Fresco di? Fresco di nuovo consigliere nazionale, qualcosa del genere dell'Asci. Ah, sì, sì. È stato riconfermato. Riconfermato, sì, sì. Scusate, devo dirle queste cose. La retina a livello nazionale bisogna tenere in conto, no? Lui con l'Asci ha fatto grandi cose, insomma. Da quando ha comunque avuto degli incarichi anche a livello provinciale. Non lo so, perché non l'ho seguito. Se me lo dici te... Fanno delle belle iniziative anche sulla sicurezza stradale, hanno sempre fatto... Questo è bello, questo è bello. Sì, sì, sì. Quindi, ecco, spieghiamo che si metta a mano a uno dei parcheggi più frequentati per chi vuole andare nel centro. Dei tre, questo è l'unico, perché l'altro a pagamento sicuramente non avrà, non ha queste problematiche. Dicai proprio che non ce l'ha. Che è mezzo vuoto. Eh sì. No, dire che è mezzo vuoto vuol dire... Che è mezzo pieno. No, grazie, molto ottimisti, perché ci sono cinque macchine, ci sono cinquecento parcheggi. Non è stata una scelta molto felice, noi lo ribadiamo ancora per l'ennesima volta. Però, d'altronde, se non facevi così, qui il parcheggio dei camper era fisso, senza avere niente con i camper, però era fisso. Si sono spostati in via Tarlati. In via Tarlati. Adesso qui i campi sono spostati, sono andati di giù. E, d'altronde, siccome questo è stato fatto e creato per dare un servizio al centro storico e soprattutto agli uffici pubblici del comune e della provincia, così via. Ora, la provincia non c'è più, quindi magari uno si può riaprire libero. Si doveva dare la rotazione necessaria per far sì che la gente avesse la possibilità, visto che solo il ZTL non può entrare, la possibilità di poter parcheggiare. Questo era lo scopo. E, d'altronde, non si era raggiunto. Ora si è raggiunto, perché, come vedi, uno che viene qui può parcheggiare tranquillamente e andare dove deve andare. Come ti dicevo, adesso i uffici della provincia sono molto meno, si chiuderanno, per cui ci saranno molti meno utenti. Magari è il caso, a questo punto qui, secondo me, di riaprirne uno libero e lasciare uno a pagamento per il servizio. Ecco, bubù, bubù, e vedete come balla. Magari con un po' del poco provento che arriva da questi parcheggi, qualche soldo può essere speso qui. Eh, penserei. Per di mettere a posto questo manto stradale. Ci vediamo domani. Ciao.